mette un semi country e mi ero chiesto perché sono Ligure e mi ero chiesto come avrebbe cantato il dialetto prima del suo giro creato e allora mi sono messo e ho preso una parte del testo Non in genovese, ma nel dialetto della mia città, io sono in Italia, con un consulente linguistico di alto livello, mio padre che ha 97 anni, con la mia donna, una parte. Helmut canterà la parte in italiano e io con la legge ho detto San Rimasco, non San Rimasco, San Rimasco. Il San Rimasco lo sanno tutti. 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 All'opera del colpito, che ha sovito il pescatore, e va un sol con un colpito, con un aspetto di sorriso. Grazie!